buongiorno ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina che l'è tutto gratis qualora vi facesse piacere altrimenti non ci sono problemi facciamo due chiacchiere lo stesso io mi diverto con voi voi vi divertite con me e bla 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 giuse ma l'avevi detto che l'inter rimaneva a san silo ci sono video live non non c'è da prendersi nessuna vittoria secondo me eh qualora l'inter rimanesse a san silo come eh pare che sia è una vittoria per tutti gli interisti secondo me non è una vittoria di giuse dieci che ha sempre detto che l'inter sarebbe rimasto a san silo e che rossangeles era un blef a parte per i problemi di inviabilità ma comunque si sapeva che eh che san silo era nelle idee dell'inter io ho detto anche più volte a ripetizione ma come fanno ristrutturazione io dissi anche quello che stanno scrivendo in queste ore ristrutturazione stile bernabè o a settori con capienza ridotta magari può capitare in un certo periodo tu faccia una partita due fuori ma comunque rimani a san silo quindi non è nessuna vittoria di giuse dieci che ha sempre detto che l'inter sarebbe rimasta a san silo mentre eh molte persone erano già lì che stappavano lo spumante per rozzano per lo stadio nuovo poi anche lì ragazzi per fare uno stadio nuovo servono soldi serve un trenta per cento di equiti subito trenta per cento del valore servono garanzie finanziarie quindi ehm non c'è nessuno stadio a rozzano l'inter novanta su cento rimarrà a san silo e penso che ormai si sia capito ripeto una vittoria secondo me di tutti i chitteristi perché io ci ho portato i miei figli a san silo e li voglio riportare ancora a san silo perché ce lo abbiamo ce lo abbiamo tutti nel cuore per lo stadio lì cioè le emozioni che ti dà san silo io sono stato in quella bagnarola per dirti dello juventus stadio ma voglio dire sembra se sembra veramente eh sembra un campo dal dal lo so che roba è quello sembra un cioè sta di belli come san silo in italia dove li trovi ma di cosa ragioniamo vuoi mettere quarantamila con ottantamila persone dai ma poi proprio per come è fatto san silo per come è strutturato è un monumento del calcio ed è giusto che l'inter rimanga a san silo poi da lì a dire che eh ragazzi io non voglio far polemica non voglio lo sapete mi conoscete io solo da dire qualcosa lo dico ma per quelli che parlano di riscadenziamento che non è un rifinanziamento che vorrebbe dire non tirare fuori un euro mi dovete spiegare dove sono i soldi della ristrutturazione perché servono servono circa 400 milioni per ristrutturare san silo dove c'è uno in riscadenza dove ce l'ha i soldi uno non può mettere un euro anche per un discorso legale di leggi come fa a ristrutturare san silo quindi sala sala è un volpone ragazzi sala si è sempre lamentato e non trovava zang con chi devo parlare all'inter ora perché gli fa comodo sembra che zang abbia che i soldi per per ristrutturare lo stadio cioè è solo un mondo di interessi questo alla fine mi apisci è un mondo che si tiene solo esclusivamente sugli interessi sala ora parla bene di tutti perché comunque vuole sbolognarsi san silo vuole lo vuole dare a qualcuno cosa ti dicevo le concessioni a 90 anni a 99 anni nei video nelle live sta parlando anche cioè sala ti sta dicendo vuoi la concessione 99 anni diventa tuo lo stadio non ti preoccupare te lo do e cose dette ridette 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 non esiste nessuno stadio a rozzano e io non voglio né fare dissing né creare polemie c'era gente stappava lo sfumante per lo stadio a rozzano ma di cosa mi stai ragionando iscriviamoci al canale attiviamo la campanellina allora ora in queste ore c'è la calcia al difensore perché acerbi non è eterno né un simorgue quest'estate io ho fatto un nome e anche lì andiamo a prendere i video io quest'estate ho fatto un nome e qualcuno si mise a ridere ho le prove di quello che dico è tutto agli altri stai tranquillo io dissi prendiamo buongiorno del torino ora buongiorno è diventato un fenomeno c'è un'intervista da acerbi mi sembra sky fatta circa due mesi fa due tre mesi fa dove gli dicono ad acerbi qual è il difensore che più si avvicina alle tue caratteristiche acerbi dice buongiorno gli chiedono buongiorno scalvini acerbi dice buongiorno ma perché dice buongiorno acerbi perché buongiorno è il sostituto perfetto è il futuro è un acerbi 2.0 perché il ragazzo del torino ti dico le cose che ti ho detto sette mesi fa a livello difensivo è fenomenale è intelligente tatticamente appia di buoni c'ha il vizietto del gol e sempre a livello difensivo perché io sono della vecchia guardia il difensore deve saper difendere lui a livello difensivo non fa passare nemmeno una mosca quindi capito questa è la mia filosofia del difensore sarà sarà una roba retograda ma io il difensore deve sapere difendere ma diosa ragioni e buongiorno il giocatore da prendere non c'è scalvini che tenga non c'è è buongiorno del torino il difensore che deve prendere l'interna anche perché avere bastoni buongiorno per esempio in rosa cioè le puoi far ruotare anche in base alle caratteristiche degli avversari sono talmente forti tutti e due magari uno è più in forma uno è meno in forma uno ha preso una botta ce lo sai cosa vuol dire avere bastoni acerbi in rosa quello difensore da prendere ora chi mi prendeva per il culo quando feci il nome di buongiorno mi prende più per il culo nazionale prestazioni altissime di livello lo vogliano tutte le squadre lo vuole milan lo vuole la juve ora prendi più su uno prendi più per il culo sul buongiorno eh come quando parlavo di carlos augusto ma chi è carlos augusto come quando io ti dissi come quando io ti dissi anche del ragazzino del monza quando fu convocato in nazionale te lo dissi occhio è forte sto ragazzetto ho visto giocare due o tre volte in primavera cioè ragazzi ma non è una dote ma se io ti dico il buongiorno è forte te lo dico perché sono convinto che il buongiorno è forte se io l'anno scorso ti dico carlos augusto è forte te lo dico perché lo so che è forte se io ti dico non prendere correa ti dico di non prendere correa perché non andava preso correa se ti dico non prendere gosens come ho detto ci sono le prove c'è un motivo per cui ti dico non prendere gosens se ti dico non prendere margheritoni che è arnatovic c'è un motivo se ti dico non prendere margheritoni se ti dico non prendere quadrato c'è un motivo devi dire giuse ma in una in una situazione del genere dove la società sta facendo i miracoli perché stanno facendo i miracoli tanto di cappello questa alla dirigenza non ci sono soldi ho capito ma ragazzi ma questi sono giocatori che non dovevi prendere mai ma nonostante tutto bisogna riconoscere che anche in base alle scelte che hanno fatto che poi dalla poltrona si ragiona bene essere lì è tutta un'altra cosa non è facile azzeccarle tutte ragazzi ma l'inter io non ho mai visto giocare forte l'inter così ne ragionavo anche stamattina una persona io non ho mai visto giocare l'inter forte così non ho mai visto un mix capito una miscela di cattiveria agonistica grinta tecnica soluzioni alternative movimenti tattici non ho mai visto nulla del genere e l'inter la seguo da 40 anni quindi fondamentalmente hanno ragione loro da un lato poi dopo da lì vedi la live di ieri sera e comunque è stata seguita da tantissime persone tantissime altrettante stanno continuando a guardarla da lì poi dopo ai problemi e a questa proprietà e quello è un discorso che che secondo me non è giusto non affrontare perché poi il tifoso per come la vedo io deve ragionare a 360 gradi non solo in maniera giuventina basta vincere tutto va bene perché poi no perché poi non dura capite voglio dire ma in queste ore stanno parlando il difensore te vai dal torino vai da cairo lo so che lo scherzetto con breve so tutto ma te vai da cairo e prendi buongiorno visto che quest'estate che hai dato anche lazzaro a due lire e lazzaro ci faceva comodo secondo me te vai lì e ti prendi buongiorno cinque rate sei rate sette rate non mi interessa acerbi comincia avere una certa età acerbi a overperformato acerbi ha zittito tutti me compreso acerbi ha zittito tutti me compreso ci mancherebbe ma acerbi non è eterno a 36 anni quindi te il primo c'era schulz vi ricordate io vi parlavo anche di schulz ma a livello difensivo buongiorno è superiore a schulz parte che il ragazzo lì ha avuto anche un grosso problema fisico ma il primo difensore da prendere è buongiorno del torino ciao lì